Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo video in cui parliamo di carte oracoli, mazzi di oracoli tarocchi e andiamo a conoscere insieme i mazzi e a fare anche una lettura interattiva per capire come utilizzare questi mazzi. Oggi vi parlo di un mazzo meraviglioso. Se mi conosci un po' sai che io amo gli unicorni e questo mazzo è proprio dedicato agli unicorni. Da un po' di tempo è uscito, grazie ad Armenia, anche in italiano perché era presente solamente in inglese e ora appunto puoi trovare questo bellissimo cofanetto che costa anche poco rispetto alla qualità del cofanetto e del mazzo proprio dedicato a quella che è la magia degli unicorni. È un mazzo di Diane Cooper e come ti faccio vedere all'interno del mazzo, cioè insieme al cofanetto, trovi anche un libretto. In questo libretto troverai oltre che la carta numerata, infatti vedi che le carte hanno un numero, trovi anche una descrizione della carta e un lavoro da fare legato alla carta con una sorta di meditazione guidata e un'affermazione su cui puoi andare proprio a lavorare. Infatti puoi andare a estrarre la tua carta, ma puoi anche andare poi una volta che ti arriva la carta andare proprio a prendere questa carta e fare come ti dicevo questo lavoro sopra attraverso le indicazioni che ci arrivano da Diane Cooper. Allora, intanto, magari te le faccio vedere un attimo perché sono bellissime, ovviamente i protagonisti sono gli unicorni, e sulla base di quello che vedi puoi andare proprio a fare, anche senza leggere il libretto, andare a fare proprio un lavoro sulla lettura intuitiva della carta, perché sono carte illustrate con delle bellissime immagini, peraltro. Quindi questa la adoro, questa è bellissima. Se collezioni carte, se ami gli unicorni, se hai ricevuto l'attivazione di angeli unicorni e riceverai le prossime sugli unicorni che ti andrò a proporre, questo è uno strumento di lavoro aggiuntivo. Perché? Perché una volta che hai integrato delle energie, come ti spiego sempre quando parlo delle attivazioni energetiche, tu entri più in connessione anche con i mazzi che trattano quelle energie. Quindi ecco perché poi andiamo a lavorare con le certe energie, perché poi magari una volta che abbiamo ricevuto un'attivazione, quei mazzi ci attirano particolarmente. Perché ci richiamano, no? Vibriamo alla stessa frequenza. E in questo caso la frequenza alla quale vibriamo è quella degli unicorni. Come vedi, gli unicorni vengono belli. Questa con i delfini. Quindi questa è un'energia che mette insieme l'energia dei delfini e l'energia degli unicorni. Te l'ho mostrato un po' tutto, anche se velocemente, perché ci tenevo di farti capire se comunque ti risuona anche la parte grafica. Perché è molto importante quando andiamo a scegliere un mazzo. E' una cosa di cui parlerò anche nel corso di lettura delle carte, dei tarocchi che sto preparando. Perché andare a scegliere il mazzo, un mazzo che vibra, che ci risuona, che vibra alla nostra frequenza è molto importante. Se un mazzo a te non piace graficamente, è perché quel mazzo è tu, avete una frequenza diversa. Quindi non siamo obbligati tutti ad amare le stesse cose. Abbiamo tutta una nostra attitudine, una nostra indole. Allora, quello che andiamo a fare adesso è capire, chiedere agli unicorni un consiglio. Puoi farlo su una situazione specifica oppure puoi fare una domanda generica, cioè chiedere un consiglio generico agli unicorni. Quindi cosa mi volete comunicare? Qual è il tipo di energia che mi serve adesso? Cosa devo sapere? E sulla base di questo andiamo a comprendere come puoi utilizzare questo mazzo anche se poi deciderai di averlo con te. Adesso vado ad abbinare le pietre e metto cuoricino di selenite per la prima, ametista per la seconda, quarzo rosa per la terza. Prenditi un attimo e formula bene la domanda e una volta che hai formulato la domanda scegli il cuoricino che preferisci. Metti anche in pausa il video, prendi il tuo tempo, non c'è nessuna fretta. E una volta che hai scelto vai a vedere cosa ti dice la carta. Partiamo dalla selenite. Smeraldo cosmico. Crea la perfetta salute. Accede all'abbondanza divina. Allora intanto, lo smeraldo cosmico è una carta che ci porta proprio a abbondanza e salute. Ci collega anche all'arcangelo Raffaele che è un arcangelo proprio legato alla guarigione ma anche legato all'abbondanza. Quindi, quest'unicorno ci sta parlando proprio di questo. Quello che andiamo a fare, così ti spiego come utilizzare questo mazzo, è andare, guarda anche qui, gli smeraldi cosmici dell'arcangelo Raffaele sono una combinazione del raggio blu di guarigione e del raggio giallo della saggezza. Quindi qui trovi una bellissima spiegazione. Ti parla anche del collegamento dei chakra. E poi trovi qui un'indicazione su come andare a lavorare con questa carta dello smeraldo cosmico. C'è la cosa bella da fare e sicuramente intanto comprendere che se abbiamo ricevuto questo è perché dobbiamo lavorare su abbondanza e guarigione. Potrebbe essere su entrambe o su uno di questi aspetti. Ma poi possiamo andare proprio a seguire i consigli che troviamo di questo lavoro che possiamo fare una volta che abbiamo ricevuto questa carta. In questo caso specifico c'è una preghiera da recitare che dice Amato Arcangelo Raffaele ti prego posiziona uno smeraldo cosmico su di me. Possa il tuo unicorno illuminarlo con la luce della nona dimensione. Possa attivare i miei chakra con i codici della perfetta salute. Chiedo che il mio terzo occhio sia aperto e illuminato. Divento qui ora più meritevole. Ti ringrazio per aver condotto a me e qui dici il tuo desiderio unicamente per il bene supremo e accetto con gratitudine. A questo punto vai a visualizzare lo smeraldo cosmico che viene attivato dagli unicorni mentre circonda il pianeta e circonda anche te. E se vuoi puoi andare a usare questa affermazione uno smeraldo cosmico mi dona prosperità. Questa affermazione la vai a utilizzare dopo aver fatto questo lavoro. Perché? Perché se tu vai a utilizzare questa affermazione dopo aver fatto questo lavoro la vai ad agganciare a questo lavoro e quindi quando andrai ad affermare questa frase sarà come riproporre rifare questo tipo di lavoro. Lo potrei fare per un po' se vuoi puoi anche scriverla. Una cosa che a me piace fare con le affermazioni per esempio quando le ricevo con questo tipo di lavoro degli angeli e degli unicorni è prendere un foglio e scriverla tante volte. Perché mentre la scrivo sento quali sono cosa fluisce in me cosa mi arriva e quindi vado proprio a interiorizzare questo messaggio che ho ricevuto. Questo è un consiglio che ti do. Se vuoi puoi riascoltare più volte questa preghiera così come te l'ho letta. Te la puoi trascrivere. Io te la lascio anche inquadrata così magari puoi fare anche una foto e puoi lavorarci nei giorni a venire. Ok? Quindi quello che ti è arrivato è un messaggio per andare a lavorare su salute e abbondanza. Tieni presente questo. Invece se hai scelto l'ametista andiamo a lavorare con questa che amo tantissimo il lago cosmico d'oro rosato immergiti nell'amore cosmico impregnati di saggezza e andiamo a vedere adesso qual è il lavoro che ci viene detto di fare. Il lavoro che ci viene detto di fare è questo ristorarti nel lago cosmico di amore e saggezza con una sorta di visualizzazione. Quindi ti viene detto invoca l'unicorno. Ok? Chiedi di condurti al lago cosmico di amore e saggezza puoi tenere gli occhi chiusi. Ok? Puoi chiudere gli occhi e fare questi step insieme con la visualizzazione così come te li sto dicendo. Vuole insieme a lui attraverso le dimensioni. Secco il tuo unicorno e vuole attraverso queste dimensioni. e di fronte a te si stende uno splendido lago di oro rosato. Bellissimo lago oro rosa meraviglioso scintillante. I signori di Orione e di Venere ti danno il benvenuto quindi ti stanno accogliendo. Ti avvicini nell'acqua ti immergi nel lago con un animo pieno di gratitudine. e mentre ti immergi nel lago e mentre sei immerso nel lago assorbi l'oro della saggezza e il rosa dell'amore. Fatti proprio invadere da questa saggezza e da questo amore e dopo qualche tempo l'unicorno ti chiama per riportarti al punto di partenza. Quando ti senti pronto torni. E dopo aver fatto questa esperienza puoi utilizzare l'affermazione il radio amore e saggezza. Perché? Perché hai fatto due queste queste energie. Molto probabilmente in questo momento hai bisogno di amore e saggezza di entrambe o anche solo di una ma questo bagno che è benefico sicuramente va proprio a portare in te queste caratteristiche se vuoi puoi andare a riscrivere questa frase il radio amore e saggezza e ridirtela quando hai bisogno di questa luce che hai fatto tua grazie a questo lavoro e poi andiamo a vedere invece se hai scelto il quarzo rosa a pagamento dell'anima celebra la tua unicità fai ciò che ti fa star bene vedi qui abbiamo proprio un'immagine di una famiglia felice che sta facendo qualche cosa di molto semplice stanno semplicemente insieme e sono felici quindi andiamo a vedere quello che ci dicono gli unicorni ti dice scopri i doni della tua anima quali erano le cose in cui eccellevi durante l'infanzia cosa avresti voluto fare da grande quindi qua rispondiamo a delle domande rispondiamo a delle domande e ci diamo delle risposte cosa ti piace fare adesso cosa puoi dare a cosa puoi dare più spazio come puoi fare per dare più spazio alle tue attività preferite chiudi gli occhi invoca l'unicorno digli che desideri raggiungere l'autentico appagamento dell'anima chiedigli di toccare la tua fronte con il suo corno di luce e percepisci il terzo occhio che si illumina accogli con fiducia i doni della tua anima che ti saranno rivelati quindi facendo questo lavoro potresti avere un flash un'immagine una sensazione sulla pelle una consapevolezza e quindi l'unicorno ti sta proprio portando a queste consapevolezze ringrazia l'unicorno e una volta che hai ricevuto questi messaggi che hai fatto quindi questo tipo di lavoro puoi andare a usare l'affermazione sono felice fin nel profondo dell'anima molto probabilmente in questo momento hai bisogno di rincuorare la tua anima di farle capire quali sono le cose importanti qual è la tua parte più vera magari ciò che desideri non è ciò che realmente desideri ma ciò che gli altri ti hanno indotto a desiderare quindi tu ricollegati alla tua infanzia a quello che ami davvero fare a come ti piace davvero stare a dove ti piace stare e l'unicorno ti aiuterà in questo e ogni volta che avrai bisogno di recuperare quella sensazione puoi tornare proprio lì attraverso questa affermazione come vedi sono carte molto particolari non sono carte da divinazione semplicemente ti danno un qualcosa una risposta su cui lavorare su una determinata questione o in un momento della tua vita quindi magari tu hai chiesto per una cosa e loro ti hanno detto di andare nel lago cosmico perché hai bisogno di saggezza di amore per risolvere quella situazione oppure hai chiesto cosa posso fare in questa situazione e ti hai detto torna alla tua parte più autentica è lì che trovi le risposte quindi vedi ti danno una risposta ma poi ti danno un bellissimo lavoro operativo su cui andare a lavorare quindi sono carte operative e sono carte operative con la guarigione degli unicorni come ti citavo all'inizio se hai ricevuto l'attivazione da me su angeli unicorni sai quanto lavorano insieme e infatti l'abbiamo visto subito già nella prima nella prima carta dove abbiamo trovato l'arcangelo Raffaele che ci porta la guarigione ci porta l'abbondanza e lavora con il suo unicorno perché ciascun arcangelo ha questo suo unicorno che collabora con lui tutte queste energie lavorano insieme se fanno parte dello stesso raggio in questo caso di questo raggio verde fanno parte dello stesso raggio collaborano insieme per portarti allo stesso scopo perché poi alla fine dobbiamo arrivare lì possiamo usare sistemi diversi usarne contemporaneamente più sistemi per adondolato la telecamera scusa per potenziare questa nostra energia spero che queste carte ti possano essere d'aiuto e che questo messaggio ti possa essere d'aiuto fammelo sapere commenta qui sotto se vuoi acquistare il mazzo ti lascio il link su dove trovarlo e se lo utilizzi già se già ce l'hai se già lo hai anche sviluppato dei modi diversi per utilizzarlo fammelo sapere perché è molto bello imparare anche imparare quando si condividono delle informazioni perché questo è uno scambio è uno scambio energetico quindi se vuoi comunicare con me puoi farlo scrivendo qui sotto oppure puoi mandarmi un messaggio privato a presto ciao tanta luce